Musica Abbiamo appena concluso il test della categoria Race Carve Gigante composta dal top degli sci commerciali pensati per ottimi sciatori tra questi il Fisher Carve CB si è dimostrato il migliore grazie all'ottima struttura che gli conferisce stabilità ad alta velocità è abbastanza impegnativo e richiede un buon livello tecnico per farsi disfruttare al meglio ciò che si ha sotto i piedi l'eccellente struttura conferisce un'ottima tenuta anche sui manti più duri o alle velocità più elevate nonché una buona resistenza alle sbandate laterali la conduzione è così soddisfacente su tutti i terreni l'unica pecca riguarda la gestione dell'attrezzo a velocità ridotta che può non essere così semplice caratteristiche che rende questo sci consigliatissimo a sciatori con un buon livello tecnico e preparazione fisica quantomeno discreta grazie a tutti Grazie a tutti.